... Cerchi la strada per il paradiso, vero? Quando si è disperate come te, si cerca sempre la mamma. Che vuoi da me? Io non ti capisco. Sono qui, cucciola. Sempre pronto ad alleviare le sofferenze di tante povere creature. Hai bisogno di me, vero? Sono costretto a nascondermi, mi perseguitano. Mamma, una missione da compiere. Tanti disperati da mantenere in vita. Tante creature deboli e indifese. Creature che invocano, che supplicano, che aspettano. Sei pronta? Per il primo buco, vero? Perché hai aspettato così tanto? Prendi. Questo è un regalo della tua mamma, cucciola. Buon viaggio. Buon viaggio. Buon viaggio. Grazie a tutti.